direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato 2 marzo il jackpot ha raggiunto la cifra di 69 milioni 198 mila 584 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 35 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 55 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 26 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 51 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 87 e adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 85 è il momento di incrociare le dita siamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 50 dopo i sei numeri che segnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 14 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly 55 26 51 87 85 50 numero jolly 14 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super in allotto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti ed ecco il numero superstar è il numero 19 ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 35 con la sestina vincente in ordine crescente 26 50 51 55 85 87 numero jolly 14 numero superstar 19 l'estrazione di oggi sabato 2 marzo termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 69 milioni 100 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 35 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del supernalotto assegna 422.633 vincite e vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 69 milioni 100 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di supernalotto non è stato realizzato ed il jackpot cresce ancora per arrivare a 70 milioni 100 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 e nessun 5 più 1 i 5 sono 3 e vincono 71.523 euro ciascuno i 4 sono 526 e vincono 415 euro ciascuno i 3 sono 21.169 e vincono 31 euro ciascuno i 2 sono 339.175 e vincono 6 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 258.746 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 2 e vincono 41.524 euro ciascuno i 3 stella sono 167 e vincono 3.107 euro ciascuno 100 euro vanno ai 2.214 2 stella 10 euro vanno ai 16.343 1 stella e 5 euro vanno ai 43.034 0 stella inoltre 123 vincite da 50 euro ciascuna e 18.504 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate alle combinazioni non vincenti vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app SuperNalotto l'app è disponibile per tutti i dispositivi per maggiori informazioni consultate il sito supernalotto.it vi ringrazio per essere stati con noi SuperNalotto vi dà appuntamento a martedì 5 marzo giocheremo per un zeppo di 70 milioni 100 mila euro arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti